Ciao a tutti, oggi 23 giugno 2012, suoneremo qui alla festa della musica, facciamo vedere il palco, stanno montando. Allora, dobbiamo farvi un po' di annunci. Il 7 luglio vi aspettiamo ai Portici in piazza per la festa patronale, suoneremo appunto per la festa di San Martino. Poi il 14 agosto ospiteremo qui Dimensione Zero, facciamo un saluto a tutta la band, a Paolo, a De Filippo, un saluto a chi? A Gabriella? A una Gabriella mi dicono. Poi un saluto a chi? Ah, ad Alessandro che sta stasera al baro delle debutanti. Debutterà anche lui col Barzotto. Alessandro Barzotto, poi salutiamo i nostri veterani, il gruppo di San Martino che ci viene a sentire in tutte le nostre... Il nostro piccolo fans club. E poi salutiamo tutti i maturandi che purtroppo stasera non potranno essere con noi a saltare perché stanno studiando. Dicono di studiare. Dicono che stanno studiando. Da quando è che stanno studiando? Da qua. Claudia, Federica, Valeria... E un saluto alla nostra bicara elettrica perché oggi alla febbre non sarà purtroppo dei nostri. Purtroppo a ogni... Quella trutta di tua sorella. Ecco. Scusaci. Ad ogni concerto purtroppo uno uno deve sempre mancare, ancora non abbiamo capito perché. Stiamo aspettando ancora lui. Siamo un po' banditi pirati e mariaci. Sì, sì, sì. Speriamo che il 7 luglio riusciamo a fare la nuova canzone. Di Rio, banditi pirati e mariaci. Speriamo di fare anche il concerto. Oh, 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 oh. Manca l'unico. Beh. Un saluto. Un saluto a tutti in Rio. Ciao Fabio, ciao Fabio e ciao Paldo. Ciao Obrowski e ciao Paldo.